L'ombra della criminalità organizzata sul territorio vicentino e di mezzo c'è il business dei rifiuti. Nel mirino delle indagini sinergiche della Guardia di Finanza e Squadra Mobile di Vicenza è finita una ditta di gambellara, la Enrica SRL. Di facciata un import-export di capi di abbigliamento in realtà stoccava rifiuti in parte proveniente dall'ecocentro di Schio. Molti gli elementi che, intrecciati tra loro, hanno insospettito gli inquirenti, dalle incongruenze patrimoniali, fiscali ed economiche, alla stessa compagine societaria, al mancato collegamento sul territorio. Una società filtro, una società cartiera che ha una esposizione debitoria per debiti fiscali enorme, spaventosa e quindi strumentale, evidentemente, a un disegno criminoso alternativo. Da qui alle perquisizioni il passo è stato breve. Una volta individuato il target abbiamo effettuato un accesso che ci ha permesso di rinvenire effettivamente 587 tonnellate di rifiuti trattati abusivamente senza nessuna autorizzazione ministeriale da parte di questa società. Stoccati in maniera non legale e senza le opportune autorizzazioni materiale plastico e polveri, due le persone denunciate con l'ipotesi di reato di traffico illecito di rifiuti. Si tratta di un 44 anni di scampia nel napoletano, amministratore unico dell'Enrica SRL e del collaboratore, unico dipendente in azienda, 48enne, sempre del napoletano. Gli inquirenti però stanno verificando le posizioni di altri soggetti, dalla moglie dell'amministratore, titolare di una società che risulta essere nella stessa sede dell'Enrica SRL, l'ex titolare e altri tre soggetti, sequestrato, vario materiale, cartaceo, cellulari e computer, sia della società che dell'ecocentro, che secondo quanto appurato portava nel magazzino il materiale da smaltire. Le indagini continuano da capire ancora la provenienza di parte dei rifiuti stoccati e quanto e come la Enrica SRL sia legata al territorio vicentino. Certo è che la lunga mano del crimine organizzato sembra aver raggiunto il territorio berico. Il fenomeno è inquietante, può essere la punta di un iceberg in ragione del fatto che sono coinvolti soggetti che hanno tutti quanti dei precedenti e che potrebbero essere con un filo rosso legati a fenomeni di più ampio respiro criminale.